Mantenere l'iscrizione nell'elenco prefettizio rischia di incidere negativamente sulla credibilità delle istituzioni preposte alla salvaguardia della legalità. Il prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, anche con questi riferimenti, ha ieri disposto la cancellazione dell'associazione anti-racket Gaetano Giordano. Quella cittadina è stata una delle prime in Sicilia e per anni ha fatto da punto di riferimento. Nell'ultimo periodo però è finita in un vortice di polemiche e sospetti. Anche tra gli stessi soci l'indagine che ha toccato lo storico presidente Renzo Caponetti, poi dimessosi, aveva già indotto la prefettura a decidere la sospensione dell'iscrizione dell'anti-racket locale che invece lo scorso novembre aveva riottenuto il via libera. Da quel momento, secondo la stessa prefettura nissena, non c'è stata una vera e propria ripresa e anche le ragioni che sono alla base dell'esistenza dell'anti-racket sarebbero venute. Emeno Caponetti lo scorso anno è finito sotto indagine per una presunta truffa su fondi destinati alle vittime di racket e usura. Il riesame ha però dissequestrato somme per quasi 400 mila euro che erano finite inizialmente sotto chiave su richiesta dei PM della procura che hanno proseguito gli approfondimenti investigativi. Le dimissioni di Caponetti hanno portato alla presidenza uno degli storici componenti, Alfonso Peritore, che ha ricevuto quest'ultimo provvedimento ancora più drastico, visto che impone la cancellazione dell'associazione locale. Peritore ha cercato di ridare vigore all'associazione, ma tra molte difficoltà, ad inizio gennaio è decaduto il consiglio direttivo per le dimissioni di tre componenti dell'assistente spirituale che aveva lasciato già dicembre. Senza consiglio direttivo anche il presidente pro tempore è decaduto. All'assemblea straordinaria, sempre ad inizio gennaio addirittura, si sono presentati solo nove soci su un totale di 189. Per la prefettura è segno evidente di disinteresse circa la volontà di chiarire i motivi delle dimissioni. Peritore, con una nota trasmessa anche in prefettura, ha descritto un clima di contrasti interni all'associazione, a suo dire riconducibile a condizionamenti esterni e a parere dell'ufficio di prefettura a dinamiche non ben chiare. Molti dubbi sono emersi anche sulle liste per elezioni del nuovo consiglio direttivo ed è direttamente la polizia a segnalarli. Fa riferimento a 13 nominativi, compresi quelli dei tre dimissionari, e spiega che si tratta comunque di esponenti dell'imprenditorialità di questo comprensorio, tutti soggetti espressione di Renzo Caponetti. Della questione si è discorso anche nel corso del recente comitato per l'ordine e la sicurezza. Nel decreto si mostrano pesanti dubbi sull'efficacia dell'azione di contrasto a racket delle estorsioni messe in atto dall'associazione locale. Si parla infatti di un'assenza di risultati negli ultimi quattro anni in un contesto territoriale comunque caratterizzato da altissimi indici di criminalità anche organizzate di matrice mafiosa. Tutte ragioni che hanno convinto il prefetto a dire basta disponendo la cancellazione dell'antiracket locale.